Il contributo del PNRR è presente anche qui nella progettazione di realizzazione di Casazza. Per noi oggi è un sopralluogo per dire ai bresciane e alle bresciane che il tempo e i ritmi che ci siamo dati, quindi il cronoprogramma è rispettato. È un luogo di riferimento importante per il quartiere. Ci siamo messi in ascolto sulle esigenze e oggi riconsigneremo poi uno spazio che ha tenuto conto dei bisogni legati alla biblioteca che è diventata sempre più una biblioteca sociale, quindi non solo di prestito ma di tantissime attività, spazi per la partecipazione, per gli incontri, per le associazioni, ma anche tenere presente la possibilità di due ambulatori e quindi rispondere a una richiesta forte nella speranza che i medici riconoscono questo come uno dei luoghi in cui vale la pena venire a lavorare, anche se sappiamo essere in difficoltà di numeri nel nostro territorio. Allora, Assessore, si lavora lacrimente al centro civico di Casazza, ormai la consegna è vicina. Insomma, dire tutto è un po' impossibile, ma cosa sta succedendo in questi locali? Facciamo diventare questo spazio, questo centro civico, una centralità per questa comunità. Ci tenevamo tanto, abbiamo fatto un grande lavoro di progettazione condivisa, condivisa con il Consiglio di quartiere e con il settore cultura, in particolar modo con la biblioteca che occupa questi spazi. Un potenziamento del servizio culturale con la biblioteca sociale che potrà allargare le sue iniziative al piano terra. In questo teatro che ha perso un po' la sua funzione originale, ma è diventata una sala polifunzionale. Avremo delle pareti mobili in modo da poter ricavare due, tre, quattro spazi per le associazioni del territorio o che vorranno trovare sede in questo bellissimo spazio. Allo stesso tempo c'era un'esigenza del quartiere per dei medici di base. Abbiamo realizzato anche due ambulatori con ovviamente gli adeguati bagni e la sala d'attesa, in modo che i cittadini, anche alcuni anziani soprattutto, chiedevano l'opportunità di avere un medico di base vicino alla loro abitazione. E qui oggi ci sarà questa opportunità, ovviamente starà i medici di base e poterla accogliere. È un investimento di un milione di euro, perché 700.000 sono per la sistemazione del centro civico e della biblioteca e la messa a norma. Ma lungo il percorso abbiamo raccolto anche una sollecitazione che era arrivata. L'avevamo già pronta come progettazione, ma non avevamo ancora le risorse. Ecco, abbiamo recuperato dal PNRR altri 240.000 euro, che serviranno per posizionare un nuovo impianto fotovoltaico sul tetto di questa struttura. Quindi per fine settembre, massimo ottobre, potremo consegnare un centro civico nuovo, rigenerato, vero, vivo e che diventerà sicuramente una centralità per questo quartiere. Un esempio anche da poter poi esportare in altri quartieri della città.